A proda anche a Salerno la discussione sul disegno di legge regionale Costruiamo il futuro, nuove politiche per i giovani con il quale rivitalizzare le iniziative giovanili con nuove risorse e modalità di azione. Di questo si è discorso nella sala bottiglieri della provincia di Salerno nel corso di un incontro, Costruire il futuro, nuove politiche per i giovani appunto in occasione della Festa dell'Europa 2016, una data che secondo il disegno di legge deve coincidere anche con la nuova settimana dei giovani. È stata l'occasione per approfondire i vari aspetti del disegno di legge che vede come destinatari degli interventi giovani in forma singola associate di gruppi informali di giovani di età compresa tra i 16 e i 31 anni. Nel DDL si riconoscono i giovani come ricchezza del territorio promuovendo politiche giovanili e scambi socio-culturali. Una legge sulla quale la regione Campania punta fermamente. Ci si deve attivare ora per poter costruire il futuro e per cui noi la legge ci teniamo molto perché è una proposta abbastanza innovativa permette di restituire la posizione di avanguardia che la regione ha svolto negli anni passati sulle politiche giovanili. Quando fece la sua prima normativa era sicuramente all'avanguardia. che ora forse è un pochettino da rinverdire. Abbiamo pensato questa normativa che vuole essere una legge quadro sui giovani e per cui destinata ad impostare e orientare anche le altre politiche che considerano i giovani ma spesso come destinatari di interventi non come protagonisti. Perciò è un po' l'approccio diverso che stiamo seguendo in questo momento con questa legge. Perciò si parte adesso, oggi, per costruire meglio il futuro. Ad organizzare l'incontro di approfondimento al quale hanno preso parte tra gli altri oltre all'assessore, anche il sindaco facente funzioni di Salerno Enzo Napoli e responsabile del progetto innovazione e sviluppo della provincia di Salerno Roberto De Luca, l'associazione culturale giovanile Moby Dick. Un appuntamento riteniamo fondamentale in termini di conoscenza del nuovo disegno di legge regionale per i giovani che è stato approvato in giunta regionale e adesso passerà in consiglio per l'approvazione. Riteniamo che sia un passo fondamentale appunto per i giovani che devono avvicinarsi ai meccanismi di partecipazione, devono conoscere i meccanismi come il forum dei giovani locali, il forum regionale e devono essere stimolati al coinvolgimento all'interno delle politiche europee in quanto la regione Campania è molto vicina alle tematiche con la nuova programmazione 2014-2020.